Salve a tutti e bentornati sul canale youtube della società atletica leggera torte e teste e oggi vi proporrò degli esercizi per andare a potenziare il pettorale degli esercizi che potete fare tranquillamente dentro casa senza l'utilizzo di nessun attrezzo allora il primo esercizio è un piegamento sulle braccia piegamento sulle braccia che inizieremo a fare con le mani poggiate al muro ok larghezza delle spalle andiamo a metterci sulla punta dei piedi o tenendo la pianta del piede poggiata a terra come meglio ritrovati andiamo a fare un movimento dove le braccia si piegano il corpo si avvicina al muro e distendo via ok quindi inspiro con il naso espiro dalla bocca avvicino il corpo al muro e lo allontano per andare poi ad aumentare il grado di intensità del lavoro possiamo prendere un mobile un pochino più basso ok quindi andiamo a prendere un primo mobiletto facciamo la stessa cosa quindi braccia mani messe alla larghezza delle spalle piede in distensione gambe in distensione scendo giù distendo e spingo via inspiro dal naso butto fuori dalla bocca aumentiamo nuovamente il grado di intensità dell'esercizio e andiamo a lavorare a terra quindi sempre mani larghezza delle spalle parto completamente disteso piedi larghezza delle spalle come le mani distendo le braccia sguardo in avanti butto fuori l'aria dalla bocca scendo giù mi spiro con il naso salgo butto fuori dalla bocca l'ultima variante e concludiamo il lavoro aumentando completamente l'intensità è quello di portare i piedi ad un livello più alto del parimento quindi andremo a lavorare in diagonale piedi poggiati su un qualunque rialzo scendo giù poggio il petto a terra distendo e salgo su inspiro dal naso butto fuori dalla bocca mi raccomando rimanete collegati al canale youtube della società atletica leggera tortre e teste alla prossima